Un cordiale buongiorno a tutti i nostri utenti per quanto riguarda l'intervista pre partita Bitonto Altamura all'ospite di oggi è Antonio Filiola. Ciao Antonio. Buongiorno a tutti. Allora ti lascio subito tra le grinfie di Nicolangelo Biscardi. Grinfie fino a un certo punto, ultimo impegno del 2019, ultimo impegno del girone d'andata, il Bitonto ospita la team Altamura. Antonio Filiola, come si avvicina il Bitonto a questa sfida? Non semplice perché l'Altamura vero è che in trasferta talvolta fa fatica ma in questa settimana si è ulteriormente rinforzata sul mercato. La stiamo preparando come sempre, con le solite settimane dobbiamo impegnarci tanto perché sappiamo appunto che l'Altamura si è rinforzata in questo mercato ma anche prima era una squadra comunque che nasconde molte insidie. Però la prepariamo come sempre cercando di portare a casa la vittoria. Il morale e il clima nello spogliatore del Bitonto all'indomani del pareggio esterno contro la Gelbison? No, no, sicuramente dispiace perché comunque sono due punti persi. Però sappiamo che può capitare, cioè in un campionato lungo può capitare pareggiare qualche partita, perdere, capiterà. Quindi siamo pronti a tutto e l'importante è rialzarsi e continuare quello che stavamo facendo prima. È un paradosso per il Bitonto che fa della tenuta difensiva uno dei suoi punti di forza subire il gol come quello subito a valo della Lucania. Quali accorgimenti il mister Taurino ha dato in settimana per evitare anche queste piccole sbavature? Quel gol, come ho detto prima, può capitare. Sono cose che capitano, conseguenze, episodi. Sono capitate tutti in un'azione. Non ci siamo arrivati o io, Paolo o Danilo per veramente questione di centimetri. Come ho detto può capitare. Per domenica sappiamo di affrontare una squadra che gioca bene, che è soprattutto davanti. Adesso si è rinforzata, quindi soprattutto in fase difensiva dobbiamo stare molto attenti. È l'ultima dell'anno, l'ultima prima della pausa natalizia, delle festività di Natale. Cosa ti aspetti da quest'ultima gara, anche dalla città domani? Per adesso siamo veramente molto contenti perché vediamo che la città ci sta seguendo, ci sta dando una grossa mano. Ci piacerebbe ancora di più, diciamo, vedere ancora più gente, però ci stanno dando una grossa mano e speriamo di vedere lo stadio pieno. Faccio io una domanda ad Antonio. Allora, Nicolangelo ti ha parlato del Bitonto in generale, invece faccio una domanda personal a te. Che cosa ti aspetti dal 2020? Dal 2020 di continuare quello che stiamo facendo perché stiamo facendo veramente bene, soprattutto in fase difensiva, come avete detto prima. Quindi niente di speciale. Continuare come stiamo facendo e sperare nel maggior risultato. Va bene, è tutto. Grazie ad Antonio Figliola per essere stato nostro ospite per il prepartita di Bitonto Altamura. Vi ricordo l'appuntamento, logicamente sempre, sui canali ufficiali del Bitonto Calcio. Grazie e ad una prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.